Allora, cusot, coi, finui, fagiolin, salada e manikot. Manikot è tipo di insalata, fatto manikot. Manikot. Va bene. Quindi quest'estate c'è molta più acqua. Sì, l'altra estate qui era tutto secco. Perché piove, 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 piove. Poi qui c'è un gruppo di ragazzi del paese, lì, c'è un consorzio, vanno a pulire, vanno a pulire le bialere, queste si chiamano bialere. Bialere? Bialere. Cioè? Si chiama così, questo torrentino. Questo mezzotubo? No. O il torrente di per sé? Questo percorso dell'acqua. Ah. Il percorso dell'acqua si chiama bialere. Ok. Il torrente? No, il torrente no. Ah. Cioè in montagna c'è un torrente, viene incanalato. Ah, è il canale, ok. È un canale artificiale, lo vedi che dice lento, no? Sì, sì, sì. Ok. Fatti pure due foto perché... Sì, sì. A New York queste, va bene, non le avete. Certo. Allora, metà colet du cuore, two poi, warning, juca mal a tutti Gesù, Allora, metà colet biologicoQuattie, college in Torri, Allora, metà colet biologico, allora, metà colet biologico. Allora, metà colet biologico, allora, metà coleti biologico. Grazie.